E sono molte le profezie che parlano di questa chiesa corrotta, quindi c'è una chiesa, così come dice Anna Caterina Emmerich, santa, ma c'è anche una chiesa corrotta, convivono, stanno insieme, cardinali contro cardinali. Vedete? Questa è una parte del testo diplomatico. In nessuna parte del mondo vi è più ordine, Satana regna sui più alti posti, determinando l'andamento delle cose. Egli infatti riuscirà a introdursi fino alla sommità della chiesa. Anche per la chiesa verrà il tempo delle sue più grandi prove, cardinali si opporranno a cardinali, vescovi a vescovi, Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma ci saranno cambiamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la profezia ci dice che l'istituzione religiosa si sarebbe corrotta, ma ce lo riconosce anche addirittura un Papa, il Papa Paolo VI, la cui elezione è stata il 21 giugno del 63, quindi è succeduto a Papa Giovanni XXIII, il 29 giugno del 72, festa degli apostoli Pietro e Paolo, Paolo VI disse, attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella chiesa. Però, amici, voglio dire, la storia della chiesa è piena di santi, di martiri, ma è piena anche di spaventosi crimini. Basterebbero i 500 anni in cui l'inquisizione ha torturato e massacrato soprattutto le donne con terribili torture. Quindi la chiesa è già da secoli che ha, poi, diciamo, in epoca moderna abbiamo scandali, pedofilia, traffici torbici, ricchezze di origine poco chiara, attici di centinaia di milioni di euro. Quindi Satana dentro il Vaticano è un po' che ci bazzica, non è da ieri. Quindi c'è una chiesa santa, in termini istituzionali sto parlando, ma c'è anche una chiesa corrotta. Eppure, vedete, quando Gesù dice Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra poggerò la tua chiesa, ma dopo non parla di riti il Signore, non parla che essere dei fedeli o dei cristiani è andare al Tempio, fare la processione, fare la confessione, che tra l'altro all'epoca di Gesù non c'era, è stata istituita dopo. Gesù, quando descrive cosa sono gli eletti, quello che devono fare, lo spiega bene. Matteo, capitolo 25, dice Quindi Gesù non dice che essere cristiani è un fatto religioso per andare al Tempio e fare i riti. Siccome riguarda, Gesù parla della scienza dello spirito, causa ed effetto, gli orientali lo chiamano karma, il Signore ci dice che essere cristiani è uno stile di vita onesto e altruista. Questo è il vero cristianesimo. Non le chiacchiere, le prediche, i riti che vanno bene. Non è che vanno male, le preghiere, va tutto bene, confermo tutto. Ma ci devono essere le azioni, se no siamo ipocriti. Che senso ha dire a una persona ti amo e poi schiaffeggiarla, rubargli? O se ha bisogno dire no, non mi interessa. Ci troviamo solo quando facciamo le preghiere. Ma che cristianesimo è questo? Quindi Gesù nel Vangelo ci parla della scienza dello spirito e ci parla delle azioni. Non ci parla dei riti, li istituisce, ma in ricordo di ciò che lui ha fatto, che è condividere, dare la vita per gli amici, guarire, sfamare, istruire. Quindi il cristianesimo è fatto di opere. Quindi quello che Satana chiede a Gesù in realtà non è attaccare solo l'istituzione cattolica, è attaccare tutte quelle anime che sono fedeli a Cristo e che possono essere gli eletti che formeranno il nuovo regno. Questo è il vero obiettivo di Satana. Non distruggere il Vaticano che di rogne già ce ne aveva assai prima del 1917, di collusioni col potere o addirittura il Vaticano stesso per secoli è stato un terribile potere temporale che ha sterminato, ammazzato, eccetera, eccetera. Quindi c'è una chiesa santa e c'è una chiesa blasfema. Quindi Satana sì, attacca l'istituzione in quanto poteva col suo messaggio cristico risvegliare il mondo, ma purtroppo i Sacra Donchens hanno perso e si stessi la via, ma il vero attacco di Satana è agli eletti, per perderli, per farli desistere dalla loro fedeltà a Dio. Da Fatima scaturisce l'esperienza di Giorgio Bongiovanni, Ci entriamo adesso. Questo è un messaggio che lui ha ricevuto da un essere molto molto evoluto, diciamo un essere divino, un genio solare. Poi questi concetti ovviamente vi sembreranno strani, per questo vi ho detto, vi regalo quei libri, perché da lì apprenderete un sacco di cose, anzi, troverete a risposte a domande che in questo momento manco siete in grado di porvi. Fatima 1917-2017, la guerra dei cento anni di Satana contro Cristo. Il tempo dell'anticristo sta per scadere, e allora ecco che il dragone vomita tutto il veleno rimasto nel suo seno, prima di essere decapitato dall'arcangelo della giustizia. riferimento chiarissimo sia all'Apocalisse che al messaggio di Fatima, dove nella visione c'è l'arcangelo che ha in mano la spada fiammeggiante della giustizia di Dio. L'anno 2017 del vostro tempo chiude la guerra dei cento anni che Satana ha scatenato contro la Santissima Madre di Cristo, capitolo 12 dell'Apocalisse, e contro il suo figlio l'unigenito del padre. Dalla fine di quell'anno, quindi adesso, il maligno inizierà giorno dopo giorno a perdere il suo potere nel mondo. Quindi potere industria bellica, potere alta finanza, potere mondo politico, eccetera eccetera, potere mafie incominceranno a indebolirsi e a cadere, a perdere il potere. Quando la belva è ferita a morte, tenta il tutto per tutto per vincere, anche a costo di distruggere il territorio e le anime conquistate. Per tale ragione la bestia che viene dal mare, dico io, Stati Uniti d'America, e quella che viene dalla terra, dico io, Russia, entrambe serve di Satana, capitolo 13 dell'Apocalisse, vogliono distruggere il mondo e gli uomini con una guerra nucleare. L'anno prossimo la Russia terminerà e testerà un missile che la Nato ha chiamato Satana 2, e un missile attestata multipla, uno solo, distrugge un territorio grande quanto la Francia, uno solo. Quindi si stanno armando fino ai denti perché l'America, che è in uno stato finanziario spaventosamente fallito, ha bisogno per rilanciare l'economia di una terza guerra mondiale. Infatti sta circondando la Russia, nei paesi baltici, eccetera, con armi nucleari, eserciti e così via, e noi siamo lì, noi collaboriamo, noi italiani. Noi ci alleiamo sempre con quello sfigato, se c'è uno sfigato in giro, gli italiani ci si alleano subito. Abbiamo un talento straordinario. Dovamo fare il contrario. In verità, in relazione alla terza guerra mondiale nucleare, dicono gli extraterrestri, noi alieni, figli della luce, vi diciamo che sarà impedito loro di porre in essere tale progetto sanguinario e diabolico. La giustizia di Dio nostro tramite interverrà con tutto il potere divino che la caratterizza affinché il salvabile venga salvato. I giusti, i buoni e soprattutto gli eletti non temano. Per amore a loro e solo per amore, il monarca universale, il padre di Cristo, e cioè Cristo stesso, si manifesterà con potenza e gloria. La guerra dei cento anni sarà vinta dall'agnello e dalla Santissima Madre Maria che, come ci ha spiegato Flavio, sta di nuovo portando suo figlio alla luce nel mondo. Infatti nel capitolo 12 dell'Apocalisse la donna vestita di sole, che è la Santa Vergine, è gravida. È gravida del ritorno di suo figlio, della nuova era. Dalla Santissima Madre Maria, terra sacra e tempio sacro degli uomini di buona volontà. Quindi un messaggio importantissimo. Perché Giorgio Bongiovanni riceve questo messaggio? Perché lui è l'espressione del compimento di un'altra profezia della Santissima Vergine, la quale il 13 maggio del 1917 disse «Sono venuta a chiedervi di venire qui per sei mesi consecutivi, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Quindi tornerò qui di nuovo una settima volta». Ovviamente questa settima volta era legata all'ambito profetico del terzo segreto di Fatima perché soprattutto Lucia dos Santos divisioni ce n'ha avuto tantissime nel suo monastero. Ma c'era una profezia, questa, che indica una nuova apparizione specificamente nel luogo dove erano avvenute le altre sei. In realtà poi una non è avvenuta lì, se non erro, quella di agosto, giusto? Ma la Vergine dice «quì, nel luogo dove c'è la quercia, dove ci sono state le apparizioni, io apparirò una settima volta». E questa apparizione c'è stata il 2 settembre 1989 a Giorgio Bongiovanni, 26enne, piccolo imprenditore del calzaturiero e improvvisamente, dopo una serie di divisioni accadute tra Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, viene chiamato a Fatima. Vi si reca, accompagnato da una coppia di amici spagnoli, cade in estasi, quindi la Madonna mantiene la sua promessa, gli appare a mezzogiorno, Giorgio aveva un mazzo di 12 rose rosse in omaggio alla Vergine e mentre in estasi la Madonna gli chiede «vuoi tu Giorgio portare nel tuo corpo un poco della sofferenza di mio figlio?» Giorgio risponde «di sì, in quel momento dal petto della Vergine scaturiscono due raggi di luce che lo colpiscono sul palmo delle mani e vedete, stramazza al suolo per il dolore che prova, quindi esce dall'estasi e il palmo delle mani, vedete, incomincia a sanguinare, quindi viene stimmatizzato in forma permanente e negli anni successivi riceve tutte le stimmate, quindi non solo le mani che poi prendono le stimmate la classica forma come l'abbiamo vista ad esempio in Padre Pio, nei piedi e anche nel costato, poi ha avuto tanti altri segni di sangue ma solo queste stimmate non sono mai scomparse, dal momento in cui sono state manifestate nel suo corpo dalla Madonna e poi anche da Gesù non sono più andate via e sanguinano periodicamente. Il discorso extraterrestre che ha iniziato ad introdurre Fabio, Flavio, era contenuto nel terzo segreto di Fatima in questa frase «E in quel tempo, seconda metà del XX secolo, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio». Quindi già nel 1917 la Vergine profetizza l'avvento dell'era cosmica, della visita extraterrestre perché questi esseri non sono astronauti di altri mondi ma sono gli esseri che nella Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, sono stati chiamati angeli, angeli ieri, extraterrestri oggi. Quindi la Vergine con questa brevissima frase indica che la visita extraterrestre è un segno messianico, escatologico, del compimento, della profezia. Quindi quando nelle scritture noi leggiamo angeli stiamo parlando di questi esseri che non provengono da mondi materiali come il nostro, provengono da mondi più elevati, da mondi dove la realtà è diversa dalla nostra. Infatti la Vergine non solo dà a Giorgio le stimmate ma gli dà un messaggio e una missione che si divideva in tre parti. Questa è la rappresentazione reale di come Giorgio ha visto la Madonna. Vedete? Una veste bianca, un centurino azzurro alla vita, scarpette bianche, capelli castanochiaro sciolti, le mani quasi giunte con questo alone di energia, di luce che le circondava e una rosa rossa sul petto perché la rosa rossa è il simbolo della Terra, è il simbolo cosmico della Terra. La missione che la Vergine dà a Giorgio è divulgare il terzo segreto di Fatima, siamo nel 1989, nella versione diplomatica perché la Vergine gli svela a Giorgio quella versione è corretta nei contenuti. Le parole sono diverse perché il testo è stato adattato dal cardinale Ottaviani per un uso diplomatico, quindi non andava bene il testo, diciamo così, teologico scritto da Suor Lucia, ma i contenuti sono quelli e però, gli dice a Giorgio, manca anche nel testo diplomatico quella frase che io vi ho appena letto, cioè la profezia dell'avvento dell'era cosmica, seconda metà del secolo XX, l'ufologia moderna nasce proprio negli anni 50, fine anni 40, primi anni 50. Diciamo che i primi contattisti, quelli che hanno gli incontri con questi esseri, scatturiscono proprio in quel tempo, quindi la Vergine profetizza la verità. Tra l'altro Papa Giovanni XXIII ebbe un incontro personale con un essere extraterrestre che atterrò nei giardini vaticani e questo fatto poi fu confermato da Monsignor Loris Capovilla che era il suo segretario personale, quello col mantello rosso che avete visto nella foto dove c'era il Papa. Flavio è andato a trovare assieme ad altri amici sotto al monte al Monsignore Loris Capovilla che gli ha confermato tutto. Tra l'altro io ebbi modo di conoscere negli anni 90 Lord Desmond Leslie che era l'amico personale di George Adamski famosissimo contattista americano e Leslie disse guarda Adamski è andato davvero in Vaticano perché aveva un messaggio personale da parte degli esseri extraterrestri da consegnare al Papa e il Papa lo ricevette e ad accompagnarlo alle soglie del Vaticano fu all'epoca il console Alberto Perego che poi ne lasciò testimonianza vi sono anche delle foto di Perego assieme a George Adamski a Roma che era venuto appunto quindi perché il Papa riceve un contattista americano perché il Papa sapeva la verità e addirittura aveva avuto un incontro tra l'altro c'è un altro fatto poco conosciuto che nel 35 quando era annunzio apostolico a Istanbul in Turchia Angelo Roncalli scrisse delle profezie tra le quali anche la profezia della visita extraterrestre quindi la Madonna come secondo punto gli dice a Giorgio devi entrare nel mondo della ricerca ufologica e devi dire agli ufologi che la vera natura della visita extraterrestre non è scientifica non è tecnologica ma è messianica cioè sono questi esseri che vi visitano il segno che siamo nel tempo della seconda venuta di Cristo cioè siamo nell'Apocalisse l'Apocalisse che è diventata sinonimo di catastrofe ma in realtà è la rivelazione quindi la società umana avrebbe conosciuto finalmente la verità che i governi ci occultano io ho prove documentali di origine militare americana che gli Stati Uniti posseggono navicelle extraterrestri fin dal 1941 nelle loro basi segrete hanno queste macchine io ho avuto anche la fortuna di conoscere scienziati che sui dischi volanti ci hanno lavorato per retroingegnerizzarle cioè studiare un'ingegneria finita per riprodurla in tecnologia da poter usare noi infatti l'assurdo progresso tecnologico degli ultimi cento anni diciamo dalla seconda guerra mondiale in avanti è perché abbiamo avuto in mano tecnologia extraterrestre molto ma molto più avanzata della nostra la terza parte della missione questo Giorgio l'ha fatto io negli anni 90 l'ho accompagnato in Russia in America in Latin America in Europa e abbiamo incontrato veramente di tutto di più addirittura in Russia fumo invitati in una base nucleare militare a fare una conferenza ai soldati e alle loro famiglie perché i dischi volanti sorvegliavano spesso e volentieri i silos di lancio i militari provavano a sparargli con la contraerea ma se gli tiravano coriandoli il risultato sarebbe stato lo stesso e siccome poi il comandante ci ricevete privatamente nel suo ufficio e ci disse io ho chiesto allo Stato Maggiore che mi spiegassero che sono sti mezzi però mi hanno detto che non ho l'autorizzazione di segretezza per vedere questi documenti mi hanno solo detto non gli sparare più e non ti preoccupare dice ma io ho migliaia di militari infatti la base era una grande città a circa due ore di strada da Mosca dice che dobbiamo fare abbiamo paura i militari sono spaventati da una tecnologia palesemente molto superiore e quindi dice siccome noi avevamo all'epoca una collaborazione con la tv nazionale russa collaboravamo con un giornalista che si chiamava Mikhail Myarchinkov che faceva una specie di voyager russo negli anni metà anni 90 quindi il comandante vide queste trasmissioni e ci invitò nella base ma poi veramente abbiamo incontrato astronauti agenti segreti di tutto di più e i governi sanno benissimo questa verità hanno tutte le prove scientifiche ma ce le abbiamo anche noi ricercatori ma non le rivelano perché cambierebbe il sistema crollerebbero le banche sparirebbe il denaro sparirebbe la politica sparirebbe big pharma sparirebbe il petrolio quindi tutti questi poteri non hanno nessun interesse tantomeno i militari perché sparirebbero anche le guerre a rivelarci la verità e non ce la riveleranno non ce la riveleranno non vi ludete che questi poteri ci diranno la verità non l'hanno mai fatto non lo faranno manco adesso